Anche per la 139esima edizione della giostra del Saracino, così come è accaduto a giugno, si è registrato il sold out in ogni settore delle tribune A, B e C, tra posti in piedi e gli affacci, realizzando il record di incassi tra le edizioni pomeridiane di settembre. Domenica scorsa erano presenti in totale in Piazza Grande 3.864 spettatori che hanno fatto registrare un incasso di 119.854 euro. Per la prova generale di venerdì 30 agosto presenti 2.875 spettatori e un incasso di 15.067 euro. Una nuova edizione nel segno del successo, commenta il vice sindaco Gamurrini, ha resa possibile grazie all'operato di tutti coloro che a vario titolo lavorano per la buona riuscita della manifestazione, dai dipendenti del comune di Arezzo, agli agenti della polizia municipale, impegnati insieme alle forze dell'ordine tutte, al personale addetto al controllo a garantire il massimo della sicurezza sia tra i figuranti che tra il pubblico, ringraziamento anche al personale sanitario, al 118, al servizio veterinario, fino agli sponsor e a chi a qualunque titolo ha sostenuto la manifestazione garantendone ancora una volta il perfetto svolgimento. Un'altra vittoria della città, secondo Gamurrini, a tutti il grazie più sentito da parte mia conclude e di tutta l'amministrazione comunale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti